Salve a tutti, vogliamo ringraziarvi davvero di cuore per aver partecipato al Mercuriale di quest'anno. Siamo consapevoli che le giornate sono state molto ricche di contributi, di stimoli, di curiosità e di altro. Però speriamo che davvero l'incontro tra le diverse discipline, i contenuti e gli stimoli, anche le criticità che sono emerse in questi giorni possano un po' spronarvi sia nel lavoro quotidiano, diciamo nel presente ma anche un po' nel futuro. E anche un po' l'auspicio di uscire, più volte si è stato sottolineato questo aspetto, di uscire dalle proprie professionalità, dai propri saperi, dalle proprie strutture e andare incontro sia a quelli che sono i reali bisogni della comunità e le esigenze. E da di lì iniziare un vero dialogo per iniziare a parlare davvero di salute, di benessere, ma in un'ottica molto più allargata di comunità e non solo di pura persuasione o promozione dall'alto. Don't be the girl found the strange